la domanda che mi pongo a questo punto è ma se il server side non è la soluzione come abbiamo detto a ios 14 probabilmente se la sta ponendo anche magari qualcuno che ci segue ma allora perché uno dovrebbe volerlo utilizzare no abbiamo detto che sto a ios 14 e che il cookie gendon di fatto arrivano e comunque portano via tutto quello che eravamo abituati a tracciare prima sia lato client sia lato app e quant'altro no allora uno perché dovrebbe utilizzare in sintesi un tracciamento server side se anche le conversion API non mi non mi risolvono questo problema il problema da ios 14 come abbiamo detto non è risolvibile è l'unico meccanismo che può fare facebook è quello di non farlo uscire dall'applicazione infatti facebook ha già fatto tutta una serie di azioni quindi shop direttamente sulla pagina di facebook quindi l'acquisto diretto sull'app di facebook piuttosto che su instagram senza andare nel sito nell'e commerce a fare l'app ma facciamo direttamente nell'app stessa e in questo modo mantiene quindi il login dell'utente quindi mantiene tutto il dato questo è l'unico barbatrucco che riesce che può fare facebook a livello di gestione la domanda è il perché utilizzare quindi server side se non toglie la problematica principalmente per avere portare più in su possibile quasi al cento per cento i dati di tracciamento quindi avere un sistema di tracciamento che è più preciso possibile certo quindi se il fatto che l'utente ha fatto effettivamente il parcisi perché la transazione è passata quindi paypal di pagamento ha fatto la transazione lì abbiamo sicuramente anche il tracciamento dall'altra parte perché è server to server non ripassa quindi dal browser o dal client che può bloccare queste queste informazioni quindi di base la scelta del server side è per avere più dati accurati dove poter fare più analisi accurati che al fine di prendere delle decisioni di business di marketing di spese pubblicitarie che siano più giuste possibili un'altra domanda che magari qualcuno dei nostri utenti si sta ponendo è ma allora tutto il tracciamento client side andrà a morire quindi ci sarà solo un tracciamento server side oppure le due cose possono che esiste assolutamente no allora il problema c'è il problema la grande tematica è che il client side ha a disposizione molti più attrezzi nel senso che il client side riesce a tracciare effettivamente tutto quello che il browser fa quindi lo scrolling il doppio click il fatto che l'utente sta selezionando esperienza dell'utente diciamo diciamo tutte le azioni che vengono effettivamente fatte nel browser il client side riesce a tracciare infatti uno dei barbatrucchi di gtm le tante magie che io faccio con gtm è perché riesco a catturare tutte queste singole azioni il server l'unica cosa che elabora è quando gli arriva la richiesta quindi il cambio pagina piuttosto che qualcosa un po più di intenso ma la precisione del dato ad esempio la dimensione dello schermo è il client che la sanno non è il server quindi questa informazione la deve passare comunque il client al server in qualche in qualche maniera quindi sicuramente non ci sarà una sola esclusione di tracciamento server side ma ci sarà sempre almeno un ibrido per quanto riguarda alcuni dettagli per quanto riguarda appunto l'esperienza dell'utente nelle nelle pagine nelle landing page e così via quindi ci sarà sicuramente un continuo tracciamento anche client side quindi non andrà a morire assolutamente il client side ok poi c'è un argomento che sicuramente ti starà a cuore perché mi ricordo perfettamente la prima volta che ne abbiamo sentito parlare ed è stato appunto a Budapest a gennaio 2020 che tra l'altro abbiamo scritto anche un capitolo del libro è capitolo 9 del libro di Google Tech Manager per inizia e l'avevamo scritto prima ancora che gtm server side uscisse hai già capito di cosa di cosa voglio parlare quindi di tag manager server side del tracciamento server side fatto con tag manager lì è stata è stata veramente un po' un privilegio perché di base io credo che siamo stati i primi italiani a saperlo di sicuro diciamo perché eravamo gli unici italiani beh insomma gli unici italiani no gli unici italiani residenti in Italia perché poi c'era Nicola c'era un po' di persone diciamo che vivevano all'estero hanno avuto esperienza all'estero ok però io mi ricordo tra l'altro dovrebbe esserci anche la foto nel libro se non ricordo male di Brian e Scott che poi sono ecco le due persone che sono a capo del team di tag manager che intanto sono stati carinissimi perché se ti ricordi sono venuti loro a salutare noi cioè è un po' come se tu incontri per strada Axel Rose e che ne so un'altra si mi ricordo benissimo eravamo seduti Ozzy Osbourne e vengono a salutare e ti fanno ah cavolo non so ti ho già visto da qualche parte e lì caspita è stato se mi ricordo che ti stavo dicendo guarda quei due lì sono uno è il capo degli ingegneri e quello un po' un po' pelato mentre l'altro è il product manager di GTM e Brian si alza che è il capo degli ingegneri sta venendo verso di noi io ti faccio così guarda che dobbiamo salutarlo e invece dice ah Matteo caspita lì veramente siamo rimasti è stato abbastanza surreale quindi sì probabilmente per mezzo e via comunque aveva visto già qualcosa forse Andromeda probabilmente probabilmente aveva già visto qualcosa di nostro quindi è stata una bella esperienza forse aveva visto il film su Cochigedon comunque sì lì è stato è stato un'anteprima perché per la prima volta hanno parlato di un concetto server side con il tracciamento quindi avevano sicuramente visto lungo all'epoca perché si parla di inizio dell'anno scorso prima ancora che ci fosse l'avvento di iOS e tutto quanto quindi il tracciamento server side era già era già qualcosa nell'aria e apre degli scenari bellissimi a livello di tracciamento e di implementazione se ti ricordi c'erano il c'erano due temi di cui loro hanno parlato perché il titolo del talk era performance and security with google tag manager non era tag manager server side e quindi di base da lì si evince che quando si parla di server side soprattutto poi con riferimento a tag manager i due temi che saltano fuori sono da un lato le prestazioni e dall'altro la sicurezza finora infatti non abbiamo parlato di prestazioni però questo è un tema assolutamente è un tema super interessante perché il prestazione perché ti faccio un esempio banale quando noi facciamo un'aggiunta al carrello in un e-commerce dobbiamo sparare n tag quindi dobbiamo accendere n servizi in tag manager quindi dobbiamo accendere pixel di facebook, dobbiamo accendere google analytics, dobbiamo accendere hot jar che magari iniziamo a fare il tracking piuttosto che dobbiamo accendere il remarketing di google ads dinamico perché così poi andiamo a gestire tutto quanto più n altri media servizi, mail marketing, chat, tutto quello che vuoi quindi ogni tag corrisponde a un qualcosa che è già caricato cioè tag manager quindi già qualcosa a livello di client quindi a livello di prestazioni cosa comporta? comporta che abbiamo tutta una serie di altri javascript che vengono caricati quindi altro peso in pagina e ad ogni tag c'è un'elaborazione tra client e gli n server gli n servizi quindi facebook, google ads eccetera eccetera quindi questo continuo passaggio di informazioni sicurezza perché queste informazioni potrebbero essere in qualche modo viste e sniffate quindi in qualche modo prese da chi non è diciamo così buono nel nostro settore altre tematiche appunto sono le prestazioni perché c'è un continuo passaggio di informazioni che occupano comunque sia a livello di peso della pagina sia a livello anche di banda poi anche lì ci sono mille tecnologie cioè lo sviluppatore di turno ti potrebbe dire sì però sai io ho tutto il mio sistema di ottimizzazione del caricamento del DOM ci sono gli script che sono asincroni tutto quello che vuoi però alla fine però se domani arriva un ulteriore servizio che dobbiamo aggiungere a TikTok e poi dobbiamo aggiungere anche il nuovo servizio che è arrivato il nuovo social clubhouse che non so se sia ancora vivo però se dobbiamo aggiungere continuamente non è che puoi chiamare ogni volta lo sviluppatore per dire aggiungimi questo 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 il gtm ha proprio questa concezione quindi di essere un hub di servizi e di gestione anche abbastanza semplice e immediata nell'attivazione con il server side questo concetto va a sparire quindi come nell'esempio che abbiamo fatto dei fuochi di artificio non c'è più bisogno di accendere n tag ma ne basterà uno solo quindi basterà un'unica comunicazione al gtm server side che a sua volta poi sparerà pioggia senza occupare risorse del client quindi senza occupare risorse dello smartphone del browser e così via ma sarà il server che elaborerà anche in modo leggermente asincrono quindi se l'utente è già scappato via oppure la pagina ci ha messo tanto a caricare o qualsiasi altra cosa il server una volta che gli arriva questa informazione può elaborare tranquillamente anche qualche secondo dopo qualche minuto dopo qualche ora dopo a seconda di com'è la sua coda la gestione di questo tracciamento quindi è una cosa che sicurezza da una parte perché abbiamo anche meno dati esposti io potrei dirti semplicemente aggiunto al carrello di quel singolo id del prodotto non occorre che ti dica il pricing il nome la categoria eccetera perché una volta che ho ricevuto l'informazione che è stato aggiunto il prodotto 1, 2, 3 a livello server side posso dire ok dimmi qual è dammi tutti i parametri del servizio 1, 2, 3 colore, taglia, prezzo e quindi lì posso aggiungere ulteriori informazioni e arricchire il dato successivamente quindi anche le richieste di informazioni sono minori e quindi prestazioni e security è assolutamente questo motivo questo l'hanno fatto anche perché perché in tag manager era arrivata la richiesta di aumentare la capacità di quanti tag di quanti diciamo kilobyte riusciva tag manager a gestire loro hanno risposto no è inutile allungare la coda di kilobyte aggiungere ulteriore capacità di quanti tag di mille mille tag accendersi ma utilizziamo un concetto un po' più furbo che il server side assolutamente anche perché di questi tempi le performance sono sono un argomento chiave penso a tutto il tema di Core Web Vitals di cui abbiamo parlato tra l'altro c'è stato il tuo articolo che è stato ripreso poi dal team di Google Analytics se non ricordo male quello in inglese e anche Simo Ava ci ha citato nella sua guida ma anche che banalmente chiunque si occupa di SEO sa che le prestazioni di caricamento di una pagina diversamente da quello che succedeva un tempo adesso sono molto ma molto importanti assolutamente sì per essere indicizzati l'altro abbiamo fatto anche un corso per essere posizionati nel come dire per avere un ranking maggiore nel posizionamento quindi diventa un fattore proprio di ranking è stato dichiarato che è un fattore di ranking quindi il fatto di avere n.000 javascript caricati in pagina che in qualche modo vanno ad appesantire anche se puoi fare tutti i barbatrucchi che vuoi Google Tech Manager è assincrono e bla 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 anche se ha tutta una serie di ottimizzazioni sulle prestazioni però la regola d'oro è che se non c'è è meglio ok quindi se non c'è se non ci sono questi script che girano e li gestiamo a livello server side anche a livello di prestazioni anche a livello SEO questo ha un impatto non banale quindi assolutamente sì certo e quindi sì ci sono direi tre macro temi a questo punto a livello di Tag Manager server side che quindi sono le prestazioni sicuramente la sicurezza di cui hanno parlato appunto Brian e Scott ma anche direi l'accuratezza del dato quindi ecco si aggiungono poi mano a mano che il tempo passa vari tasselli assolutamente sì tra l'altro a livello server side l'esempio di prima dell'ID del prodotto ma se io so che l'utente è anche l'utente 1, 2, 3 nulla toglie che io potrei tirarmi fuori a livello server side qual è stato il suo ultimo ordine in che data l'acquisto del suo ultimo anno quindi potrei tirar fuori la famosa matrice RFM quindi fare anche delle analisi molto più dettagliate portarmi fuori queste informazioni e passarle poi ad Analytics o al Pix di Facebook aggiungendo quindi delle informazioni che non sono esposte a livello client quindi non sono esposte nella pagina non possono rubarmi quelle informazioni lì gli altri che stanno facendo magari scrapping stanno analizzando la mia pagina per catturare delle informazioni quindi le implementazioni in realtà poi sono molteplici poi ecco non abbiamo adesso il tempo per andare troppo nel dettaglio anche perché c'è un corso che è realizzato che è Tag Manager Server Side che proprio è verticale sull'argomento di Google Tag Manager come implementare Google Tag Manager Server Side e abbiamo fatto esatto un corso specifico su cos'è il GTM Server Side le sue caratteristiche la diversità rispetto al GTM Client quindi il famoso GTM Web a livello di container e poi lì abbiamo anche mostrato come utilizzare le conversion API di Facebook quindi abbiamo fatto anche degli esempi come andare a creare un proprio dominio Server Side quindi sono tutta una serie anche lì sono è giusto qualche oretta se non ricordo male sono anche lì 4-5 orette di corso webinar gratuito Server Side semplice scopri la soluzione semplice per implementare il tracciamento Server Side nel tuo sito web o e-commerce anche se non sei un tecnico in diretta martedì 21 settembre 2021 alle ore 16 iscriviti cliccando sul link che trovi qui sotto oppure da questa pagina che trovi